Ogni persona ha eguale diritto di accedere a internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale. E' quanto recita l'articolo 2 della dichiarazione dei diritti di internet, una sorta di costituzione degli internauti rivolta prevalentemente ai giovani che in 14 articoli regolamenta l'accesso alla rete per i cittadini italiani. E' stata elaborata da una speciale commissione parlamentare, costruita d'ocche e preseduta da Stefano Rodotà e presentata a Roma dalla Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini. La rivoluzione di Google passa da un nome. Il gruppo infatti ha annunciato la nascita di Alphabet, la nuova società che riunirà tutte le attività del colosso di Mountain View, compreso il motore di ricerca, YouTube, Maps e le divisioni Calico, che si occupa di ricerca sulla longevità, e Life Science, focalizzata sulla salute. Quest'ultime avranno un loro amministratore finanziario e si staccheranno completamente da Google. Larry Page, amministratore delegato del nuovo gruppo, ha spiegato le ragioni della scelta del nome. Amiamo il nome Alphabet perché è una collezione di lettere che rappresentano il linguaggio, una delle innovazioni più importanti dell'umanità e rappresenta il nucleo di come indicizziamo le ricerche con Google. Microsoft lancia Windows 10, il nuovo sistema operativo pensato per PC e dispositivi mobili, tablet e smartphone. Anche se il rilascio della versione mobile ancora non è disponibile. L'aggiornamento sui computer è gratuito per la maggior parte degli utenti ed è già disponibile, ma non tutti possono averlo subito. È ancora in una fase di collaudo da parte di circa 5 milioni di persone. Chi lo scaricherà nei prossimi 12 mesi su computer o tablet che hanno già Windows 7, 8 e 8.1 originali, lo potrà avere gratis. Basta fare un download, così come chi acquisterà un nuovo dispositivo.